Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi e benvenuti in questo nuovo videogiornale Oggi siamo qui per parlare di lei, la ladra più famosa d'Italia, seconda solo a Silvio Berlusconi In questi giorni è scoppiato uno scandalo, Milano è infestata da borseggiatrici E non solo Milano a quanto pare, anche Roma, Venezia, uscendo dall'Italia a quanto pare abbiamo anche Barcellona, Barcelona Insomma si collocano queste borseggiatrici in tutte le stazioni metropolitane delle grandi città Tranne al sud, lo vogliamo dire per una volta, cioè vogliamo riscattarci la reputazione una volta e per tutte Qui al sud, quantomeno in Sicilia, vi assicuro che non abbiamo borseggiatrici Perché siamo noi le borseggiatrici No, non è vero, è che non abbiamo ancora la metropolitana, banalmente Ci muoviamo ancora con le carrozze, con i calesse, quindi al massimo abbiamo i briganti Le borseggiatrici sono tante, sono incinte e sono organizzate meglio della banda Bassotti E sono inarrestabili ragazzi, letteralmente, nel senso proprio che non possono essere arrestate Ma com'è possibile? Cosa c'è dietro? Perché qualcosa dietro c'è Ebbene ragazzi, siamo qui per parlare del mistero delle borseggiatrici Del caso delle borseggiatrici, del drama delle borseggiatrici E della borseggiatrice che ha sconvolto l'Italia Dichiarando con orgoglio davanti all'esercito È il nostro lavoro, dobbiamo rubare È il nostro lavoro Sì, è il nostro lavoro Prima di cominciare ragazzi vi avviso che questo video potrebbe farvi arrabbiare E potrebbe farvi venire voglia di offendere qualcuno Che siano le borseggiatrici, che sia, che siano, non lo so, le forze dell'ordine Che sia me Non lo fate ragazzi, piuttosto che analizzate la vostra rabbia nell'emoji di una borsa Commentate con una borsa ogni volta che la vostra indignazione sarà troppa Vi verrà voglia di insultare qualcuno Così teniamo la sezione commenti pulita Ma ci sfoghiamo lo stesso E dai commenti si capirà quale sarà il livello di indignazione generale Detto ciò fatevi una bella tisana rilassante ragazzi E cominciamo Bentornati nel nostro video giornale settimanale Lui è Nicolas Vaccaro Ha solamente 18 anni ragazzi Ma già ha grandi progetti per l'umanità Infatti Nicolas insieme a un paio di amici suoi Nel tempo libero scende giù nella metropolitana di Milano E armato di telefono Filma le borseggiatrici A Milano c'è un'epidemia di abili borseggiatrici Della serie che tu entri dentro la metropolitana con uno zaino E ne esci senza pantaloni Come è successo? Non si sa le magie delle borseggiatrici Questo fenomeno a Milano va avanti da anni Forse da decenni ragazzi Persino a Simonetta una volta è successo di essere borseggiata nella metropolitana di Milano Quindi abbiamo una testimonianza diretta oggi Simonetta per chi non lo sapesse è la cercatrice del Babilonia team Con lei che si occupa di raccogliere le fonti Ecco un giorno Simonetta era sul tram di Milano Erano circa le 9 del mattino E le è successo Vabbè vi faccio sentire direttamente quello che racconta lei nel suo vocale Me lo sono fatta raccontare in un audio su whatsapp Ve lo faccio sentire E' molto semplice Ero sul tram Era mattina Sono state le 8 o le 9 del mattino Io stavo seduta ovviamente stando con lo zainetto sulle spalle Ovviamente avendo sia computer che tablet insieme nella stessa tasca quella diciamo separata Quella fatta apposta Non stavo appoggiata chiaramente Cioè stavo seduta però stavo tesa con la schiena Semplicemente mi sono alzata E lo zaino era leggero E avevano aperto Sfilato Fatto E non mi sono accorta minimamente di nulla Pensate quanto deve essere stato difficile per Simonetta raccogliere fonti in modo imparziale per questo caso Infatti mi ha riportato tipo una quindicina di articoli del codice penale Per cui queste dovrebbero essere in carcere Cioè a conti fatti Secondo Simonetta avrebbero da scontare tre ergastoli a testa Essere borseggiati è un piccolo trauma Lo shock c'è quando te ne accorgi Cioè a primo impatto ti senti un deficiente Poi più ci pensi Più comunque la cosa ti sconvolge Perché ti rendi conto che una persona estranea ti ha proprio infilato le sue mani nella borsa O addirittura in tasca Tipo così Senza che tu te ne sia accorto Cioè ti senti violato Ti senti proprio violato nell'intimità Senza contare che magari hai pure roba privata nel cellulare Nel computer e nel portafoglio E devi temere che qualcuno possa avere accesso ai tuoi dati personali E guardare le tue foto Guardare la tua cronologia Cioè non ti senti derubato solo di un oggetto Capito? Ti senti derubato nella tua privacy anche E ti senti vulnerabile Perché appunto come dicevo prima Qualcuno ti ha messo le mani addosso A tua insaputa E viscita come cosa mi concentro su questo Perché è quello che è Tipo scioccherebbe di più me Che ho le manie del controllo L'idea proprio di essermi distratta E avere avuto qualcuno Che mi ha infilato le mani da qualche parte Cioè no Non la potrei sopportare Una cosa del genere Senza contare che dopo il borseggio Ti tocca andare a rifare i documenti Le carte di credito Cioè sono sicura che ci siano persone Che preferirebbero essere minate Che derubate a conti fatti Cioè 5 minuti e ti levi il pensiero Invece no Ti trascini poi sta burocrazia per settimane Poi vabbè non menziono neanche quanto sia brutto Che è guadagni dei soldi Oppure ti compri delle cose Con sacrificio E ciaone In tutto ciò Cioè ti resta un po' Lo shock no Il trauma Boh io col cacchio Capirei di nuovo la metro Piuttosto Andrei al lavoro Col monopattino di Barbie A testa alta Insomma essere borseggiati È un orrore Non penso che nessuno Voglia provare l'ebbrezza nella vita Di passare Diciamo di affrontare questa esperienza Ed essendo che Nella metropolitana di Milano Il rischio di essere borseggiati è alto Perché come vi dicevo Ci sono tantissime borseggiatrici Che si aggirano per la metropolitana di Milano La gente per ora vive l'esperienza del trasporto Con il terrore Tra l'altro io anni fa No vi devo raccontare sta cosa Io anni fa sono stata a Milano E mentre mangiavo al ristorante Ho chiesto a un cameriere di consigliarmi Dei posti da visitare E lui mi ha risposto Guarda Ti consiglio di andare Al castello sforzesco Poi boh Mi ha menzionato altri posti Però non mi ricordo Puoi arrivarci facilmente Con la metropolitana Mi raccomando Durante il tragitto Fai attenzione alla borsa Mi ha detto questo tizio E questa cosa Vi giuro ragazzi Me l'ha ripetuta un milione di volte Mi ha detto Cioè Di qui che me ne sono andata Mi avrà detto dieci volte Oh mi raccomando Durante la strada Fai attenzione alla borsa Ora ragazzi Non mi chiedete perché Però io mi sono convinta Che questo signore Mi stesse consigliando Di guardarmi intorno Durante il tragitto Durante la strada Perché Mi sarei imbattuta Nella borsa di Milano Cioè Questa società Che gestisce il mercato italiano Essendo che lui tipo Mi stava consigliando Dei posti da visitare No Da vedere A Milano Nella mia testa Mi stava dicendo Oh mi raccomando Fai attenzione alla borsa di Milano Non perderti la visione Di questo fantastico monumento E quindi io Per tutto il tragitto Sono stata A guardarmi intorno E a dire Ma dov'è questa borsa Ma dov'è questa borsa A cui devo fare attenzione Boh Niente ragazzi Me ne sono andata Da Milano Col rimpianto Di non avere visto Questa fantomatica Borsa di Milano Che per quante volte Quel tizio me l'aveva detto Io mi immaginavo Fosse una cosa Mastodontica Solamente anni dopo Un giorno Mi si è acceso Il neurone giusto E ho capito Comunque al tempo In metro Non mi hanno derubata Per fortuna Era estate E la metro era vuota E come scopriremo Queste borseggiatrici Agiscono principalmente D'inverno Quando la metro È gremita di persone Quindi possono confondersi Nella massa Possono approfittare Della confusione Per spintunarti Per strusciarti Le mani dentro le tasche Senza che tu ti accorga Di niente Benissimo Queste borseggiatrici Sono sempre le stesse Arrivano in metro In gruppo Si appostano Vicino alla biglietteria Per vedere Dove la gente Ripone il portafogli Dopo aver pagato Dopodiché Salgono a bordo E si sparpagliano Tra i vagoni Cioè ognuna di loro Va a occupare Un vagone diverso Tipo i commessi Di Lirua Merlène No Ognuna ha il suo reparto Nel frattempo Alcune complici Rimangono fuori Dai vagoni E la strategia È la seguente La borseggiatrice Si sfila il giubbotto Mi sono portata Un giubbotto Per Darvi una dimostrazione Pratica Dicevo la borseggiatrice Riesca a trovare Che può essere il portafogli Ma può essere anche solo Il telefono Subito che fa Passa la refurtiva Alla complice Che sta fuori dal vagone In questo modo Se la borseggiatrice Viene beccata Non avrà addosso Niente che la incrimini O comunque Già gran parte Della refurtiva Sarà al sicuro E nessuno Gliela potrà togliere Quindi i soldi a casa Se li porta lo stesso Oppure che viene sgamata Attenzione però ragazzi Perché queste borseggiatrici Le loro prede Le scelgono possibilmente Prima di salire sul vagone Di solito direttamente Quando stanno appostate Vicino le biglietterie Adocchiano infatti Quelle che Secondo Loro Sarebbero le prede ideali Dopodiché Le pedinano Dentro i vagoni Le prede preferite Di queste borseggiatrici Sono i turisti In particolare I giapponesi Perché a quanto pare I giapponesi Portano con sé Più soldi contanti Rispetto per dire Agli italiani Ai tedeschi Però in generale Le borseggiatrici Prendono di mira Le persone Che Sembrano loro Più vulnerabili Per esempio Gli anziani Come vi dicevo Il periodo dell'anno In cui queste borseggiatrici Colonizzano La metropolitana Per lo più È il periodo invernale La stagione invernale Questo perché appunto A Milano In inverno C'è più gente E quindi C'è più confusione Ci si può Strusciare meglio Tra la gente E soprattutto Si indossano I giubbotti D'estate invece Le borseggiatrici Vanno a fare La stagione Nelle città di mare Ora la metropolitana Di Milano Ragazzi Non è l'unico luogo In cui Stazionano Le borseggiatrici Ci sono infatti Altre zone Nelle quali Operano Queste Queste tizie Anzi vi dirò Di più Fanno i turni Ragazzi Nel senso Loro sono tante Ma proprio tante Tante Saranno tipo 40 E si dividono In gruppi Ogni gruppo Va a occupare Ogni giorno Una zona Diversa Della città E ovviamente Cambiando zona Cambiano anche Le strategie Per rubacchiare Io ve le dico Queste strategie Che usano Le borseggiatrici Spero vivamente Che nessuno Le usi personalmente Per andare a rubare Penso di no Penso che Sapendo come avviene Un borseggio Possiate fare Tutti quanti Più attenzione Quando gironzolate Per le città Non voglio fare Un corso Per diventare Borseggiatori Questo sia Cioè voglio Che sia chiaro Allora Oltre la tecnica Del giubbotto C'è la tecnica Della mappa Ragazzi Nei luoghi turistici La borseggiatrice Cammina Reggendo Una mappa Della città Che usa Sempre per nascondere La manina Con la quale Fruga dentro Le tasche Dei passanti Nei momenti Di confusione Un'altra tattica È quella del bar Tu sei al bar Poggi Il telefono Sul tavolino In questo modo Le borseggiatrici Ti adocchiano E a questo punto Una di loro Si avvicina a te Fingendo di essere Una turista Per esempio Ti chiede Delle informazioni Magari anche lei C'ha la mappa E la usa per distrarti Tipo Te la mette davanti E ti dice Sai dov'è Castello Sforzesco Quindi tu ti giri Parli con lei Magari le indichi pure Dei punti sulla mappa Al che una sua complice Si avvicina Ti toglie il telefono Dal tavolo E se lo porta via Per sempre Addio telefono Nel peggiore dei casi Prende direttamente La tua borsa Che magari ce l'hai Magari hai lo zainetto Appeso alla sedia Però attenzione ragazzi Perché il diversivo Può variare Ovviamente Per esempio In alcuni casi La borseggiatrice Invece di fingersi Una turista Si finge Una mendicante Ti chiede Le limosine In questo modo Mentre tu stai parlando Con lei La sua complice Si porta il cellulare Siamo sempre lì Purtroppo ragazzi A malincuore Vi dico Perché non posso Mettere niente Che le limosine È uno strumento Usato dalle borseggiatrici In vari modi Per esempio Alcune borseggiatrici Vi chiedono Le limosine Solo per farvi tirare fuori Il portafoglio E vedere dove poi Lo riponete Capito ragazzi Così Sapranno Già dove andare A mettere le mani Per trovare il vostro portafoglio Quando si avvicineranno A voi A me dispiace molto Parlare di questa cosa Quindi ci tengo a dirlo Anche se Ovviamente Cioè lo so che ci arrivate Da soli Però il fatto che qualcuno Si finga mendicante Non significa Che i mendicanti Non esistano E cioè Non vi voglio inibire Dal Dall'aiutare Magari una persona Che ne ha bisogno Quindi se posso Se posso darvi un consiglio Quando vi trovate Nelle grandi città Tenete magari Le monetine Nelle tasche Invece di Essere costretti A tirare fuori Il portafoglio Ogni volta che vi serve Una moneta E questa ragazzi Spesso che un passeggero La druncola viene Viene sempre Rilasciata E a consegnarle Direttamente alle forze Dell'ordine Tra gli applausi Dei passeggeri Ma ragazzi Poco dopo Le stesse telecamere Di striscia La notizia Riprendono Le borseggiatrici Mentre escono Liberamente Dalla centrale Dopo sole Tre ore E il giorno dopo Valerio Staffelli Le ritrova Di nuovo In metro Pronte per una nuova giornata Nuovo giorno Nuove borse Da staccheggiare Addirittura In uno di questi servizi Valerio Staffelli Consegna alla polizia Una borseggiatrice E la vede Proprio La riprende Mentre La polizia Se la porta Nell'auto Della polizia E il giorno dopo La ritrova In metropolitana Quindi va da lei E le chiede Ma come Che sei di nuovo qua Esattamente E lei risponde Eh sì Ma questo è il mio lavoro Bisogna Bisogna È un duro lavoro Ma qualcuno Deve pur farlo Ma perché Non le arrestano Cioè la legge italiana Lo punisce il furto È reato penale Il furto Non è che uno Può rubare così Per hobby In base infatti All'articolo 624 Del codice penale Chi ruba È punito Con la reclusione Da 6 mesi A 3 anni E con una multina Da 154 a 516 euro Da pagare possibilmente Senza andarli a rubare Questi soldi Altrimenti non abbiamo Fatto niente E vi dirò E vi dirò di più ragazzi Per chi ruba Togliendo di dosso La refurtiva Diciamo le cose Che ruba A un'altra persona Quindi mettendo le mani Addosso a un'altra persona Come fanno queste borseggiatrici C'è l'aggravante Infatti in questo caso Il minimo della pena Non è di 6 mesi Bensì di 4 anni Di carcere E il massimo della pena Non è più di 3 anni Bensì di 7 anni Quindi ste borseggiatrici A conti fatti Dovrebbero essere al fresco Da un po' Reiterano il reato di furto Ogni stanto giorno Della loro vita Ci sono gli estremi Per far loro un processo E vi dirò di più Sono pure violente Le borseggiatrici Infatti alcune borseggiatrici Hanno preso a calci Il cameraman E distriscia la notizia Compiendo di fatto Un'aggressione Documentata dalle telecamere Quindi abbiamo prove Proprio schiaccianti E se l'aggressione Al cameraman Non vi sembra Abbastanza grave Allora beccatevi lei Ragazzi Cristina Irrora Vorrei non sbagliare il nome Una tiktoker Che un giorno Stava viaggiando Tranquillamente In metro Quando si è accorta Di essere vicina A delle borseggiatrici Che lei Riconosce Attenzione Grazie a dei video Visti su tiktok Ma Di questo Ne parleremo dopo Che succede Allora Cristina Tiene d'occhio Queste donne E si accorge A un certo punto Che una di loro Prende in fila La mano Nella tasca Di un signore Mentre un'altra Con il classico Giubbotto Sopra la manuzza Scava nel sacchetto Dello stesso signore A questo punto Cristina Si incavola E si mette E si mette a urlare E dice A una di queste due Vai continua Io ti sto guardando Voglio vedere Che cosa stai facendo Al che la borseggiatrice L'accusa Di essere una ladra A Cristina E le dice tipo Tu lo stavi derubando Ti ho visto What the fuck A questo punto Scoppia la sciarra E si scaglia Contro Cristina Un gruppo Di 5 6 borseggiatrici Che praticamente Spuntano Come i funghi E la menano ragazzi Questi erano I suoi capelli Una volta I capelli di Cristina Cristina dopo avere subito Questa aggressione Registra un video Questo video In cui racconta La cosa con le lacrime Agli occhi Tutta che trema Sconvolta E lo pubblica Su tiktok Non abbiamo stata Dicchiata In mezzo Perché ho visto Delle ragazze Che si mettevano Le mani Dentro le buste Del signore Al che io L'ho avvertito E ho urlato Contro queste tipe E cosa fanno Mi chiamano dei capelli Mi hanno preso Tutti i due capelli Praticamente Mi hanno Ho tutta la testa Tutto qua Non so si vede Mi brucia a morire Mi brucia Spesso Perché Non so Che cosa hanno fatto Mi avranno Graziato Ovviamente Questo video Va virale E ben presto Cristina Una volta tornata A casa Pubblica anche Un altro video Sempre su tiktok Raccontando pure Il resto della storia Ce le dice Io dopo avere subito Questa aggressione Da parte delle borseggiatrici Chiaramente Sono andata Alla polizia Ho mostrato Alla polizia Il video Con le facce Di queste donne Che mi avevano Menata Come una pignatta Ma la polizia Lo volete sapere Che cosa Mi ha risposto Dice Cristina La polizia Mi ha risposto Guardi Noi queste Le conosciamo Da 4 anni Non le conviene Denunciarle Perché tanto Non faremo Loro niente Non le possiamo Arrestare Si faccia una camomilla E non ci pensi più Vi faccio sentire Il racconto Di Cristina Ma non finisce qui ragazzi Anche questo signore Anche questo signore Poverino Si è beccato Una sciunnata In faccia Indovinate Da chi Dalle borseggiatrici Anche lui Per avere difeso Una ragazza Che stava subendo Un furto Se ne è accorto La difesa Sacca Hanno tirato fuori Le unghie Tutto questo Cosa significa Che oltre a dover essere Accusate di furto In teoria Queste borseggiatrici Dovrebbero essere accusate Anche del reato Di aggressione Che è punibile Con la reclusione Fino a 6 mesi Nel caso in cui L'aggressione in questione Non abbia lasciato Alcun danno Alla vittima Come ad esempio Nel caso del cameraman Ma è punibile Addirittura Fino a 3 anni Di carcere Nel caso in cui L'aggressione Abbia danneggiato La vittima Come nel caso Di questo signore Oppure come nel caso Di Cristina Quindi Ricapitoliamo Pena per avere Borseggiato la gente Da 3 a 7 anni Di carcere No forse Da 4 a 7 anni Di carcere Pena per avere Aggredito fisicamente La gente Da 6 mesi A 3 anni Eppure Sentite ragazzi Cosa dice Cristina E io queste Le ho riviste Dopo 3 ore Sulla metro Erano ancora lì Tutti quanti Le conoscono Tutte quanti Perché poi io Ho cercato di avvertire Altre persone Quando le ho riviste E quelli poi Alla metro Mi fanno Sì sì Già lo sappiamo Già lo sappiamo Cioè Già lo sanno Cioè queste vivono Completamente Al di sopra Della legge Ma come è possibile Perché queste borseggiatrici Non possono essere arrestate Perché la polizia dice Non possiamo fare loro niente Ebbene ragazzi Queste borseggiatrici Hanno la panza Sono tutte incinte E questo Ladies and gentlemen È il barbatrucco Perché l'articolo 146 Decreta Che se sei incinta O hai un bambino Che ha meno di un anno Non puoi essere arrestata Però attenzione ragazzi Perché non è che Cioè puoi vivere Al di sopra Della legge E fare quello che vuoi Giusto Altrimenti sapete Come mi sarei sistemata La vita Mentre ero incinta Proprio Mi toglievo Due tre capricci Semplicemente Ti fanno il processo Ma Se per esempio Ti condannano A scontare Boh tre anni Di carcere La pena viene congelata E andrai in carcere Quando tuo figlio Compirà il suo primo anno Quindi Hai quasi due anni Di vantaggio Per i nove mesi della gravidanza Non puoi essere toccata E poi per un anno Comunque Stai serena Un'offerta imperdibile Dopodiché Che fai Te ne vai in carcere No Ti fai mettere incinta di nuovo E così via Fino alla menopausa Questo è il barbatrucco Delle borseggiatrici Tra l'altro Quando una persona Commette un reato Più volte Più volte Più volte Come nel caso Delle borseggiatrici E ci sono prove Abbastanza concrete Della sua colpevolezza Come nel caso Delle borseggiatrici Perché abbiamo i vide In questi casi Di norma Si può disporre La custodia cautelare Cioè si può mettere La persona Direttamente Agli arresti domiciliari Onde evitare Che di qui al processo Commetta di nuovo Il reato Andando a danneggiare Altre persone Andando a disturbare Altre persone Ciò non si può fare Con una donna incinta Ragazzi E nemmeno Con una donna Che abbia figli Minori di 6 anni Ma poi scusate Ma un padre Con figli minori Di 6 anni Che fai uno stronzo Se se ne va in carcere Meglio Così non disturba La quiete casalinga Cioè ma che vuol dire Vabbè Non ci poniamo Queste domande Perché altrimenti Cambiamo completamente Argomento Andiamo fuori tema E quindi è per questo Che la polizia Rilascia sempre Le borseggiatrici Non le si può mettere In custodia cautelare Non le si può Arrestare Cioè Magari Boh Le Magari subiscono Un giusto processo Capito Magari qualcuno di loro Lo subisce davvero Il giusto processo Però comunque Fino a quando Queste borseggiatrici Saranno incinte E avranno bimbi piccoli Non le si potrà arrestare Quindi secondo me La polizia Spesso dice Vabbè È inutile Ora che una donna Incinta Non possa essere Messa in carcere Ha il suo perché Il bambino Non ha colpe È una situazione Di stress estremo Come può essere Un arresto Potrebbe nuocere Penso alla salute Di entrambi Ma è chiaro Che queste donne Stiano abusando Di un diritto E questo è un bel Trappolone Perché mica puoi togliere Questo diritto Cioè Come si suol dire Non è che può piangere Il giusto Per il peccatore E quindi che succede Ragazzi Succede che Nel 2022 A Milano Viene emanata Una circolare In base alla quale Il giudice Di sorveglianza Può stabilire Lui stesso Di fare scontare La pena alle donne Incinte In un istituto A custodia Attenuata Cioè Una struttura Meno severa Nel caso In cui lo ritenga Necessario Oppure Direttamente In casa loro Ai domiciliari Questo perché Va bene Tutelare le detenute Ma Vista la situazione Bisogna anche Tutelare la collettività Cioè Bisogna trovare Un equilibrio Tra Tutelare le detenute Tutelare la collettività Nonostante questa circolare Non cambia un cazzo Le borseggiatrici Continuano a borseggiare Come se non ci fosse un domani E vengono sempre Rilasciate Dopo poche ore Sembra non esserci speranza Spostarsi a Milano È come attraversare La giungla E la situazione Si scalda Al punto che Si incavola Chiara Ferragni E quando si incavola Chiara Ferragni C'è proprio Un giorno infatti Chiara Ferragni Pubblica su Instagram Questa storia Leggiamola Sono angosciata E amareggiata Dalla violenza Che continua A esserci a Milano Ogni giorno Ho conoscenti E cari Che vengono Rapinati in casa Piccoli negozi Al dettaglio Di quartiere Che vengono Svuotati Dell'incasso giornaliero Persone Fermate per strada Con armi E derubate Di tutto La situazione Fuori controllo Per noi E i nostri figli Abbiamo bisogno Di fare qualcosa Mi appello Al nostro sindaco Beppe Sala Ebbene Il sindaco Beppe Sala Ragazzi Risponde A Chiara Ferragni Dicendole Scialla Chiara Allora Beppe Sala Ragazzi Risponde Con queste parole Non condivido Quello che Lei dice Quindi Beppe Sala Non è d'accordo Con il fatto Che i parenti Di Chiara Ferragni Siano stati derubati Cioè Non condivide Questa opinione Di Chiara Ferragni Secondo Beppe Sala Chi è entrato Nelle case Di parenti Di Chiara Ferragni Ha solo preso In prestito I loro oggetti Di valore Non condivide Che sia stata Una Che siano state Delle rapine Vabbè Non condivido Quello che lei dice Ma capisco Che sia un tema Delicato E che c'è Una sensibilità Della città Quindi secondo lui Non esiste Il problema Sono i milanesi Troppo sensibili È una psicosi Di massa Non contento Beppe Sala Conclude giustificandosi Presta poco così Ragazzi Eh ma in tutte Le grandi città Del mondo Ci sono questi problemi Quindi lasciamo Borseggiare la gente Perché che fa Vuoi puntare A essere meglio Di New York Cioè ma come Ti viene in mente Una cosa del genere Quindi non c'è Via d'uscita Ragazzi A Milano Bisogna Accollarsi Le borseggiatrici Ma un giorno Arriva Nicolas Nicolas Vaccaro Il giovane Nicolas Decide Che questo Strazio Deve finire Bisogna fare Qualcosa Così che fa E qui ci ricolleghiamo All'inizio del video Ragazzi Ogni giorno Nicolas Come vi dicevo Insieme a un paio Di amici suoi Scende in metropolitana Hanno tutti i loro cellulari Hanno un megafono E con questo megafono Quando vedono Arrivare le borseggiatrici Che come vi dicevo Sono sempre le stesse Quindi ormai le conoscono Annunciano a gran voce Ai pasteggeri Attenzione tutti Fate attenzione A queste donne Loro sono borseggiatrici State attenti A loro Attenzione Le borse Sono borseggiatrici Guardate Le borse Grazie Si segnalano La presenza Di borseggiatrici E ripetono L'annuncio Anche in inglese Visto che le vittime Dei furti Spesso sono Turisti Ora Mentre fanno Questi annunci Col megafono Nicolas e i suoi amici Filmano Le borseggiatrici E dopodiché Questi video Li condividono Su TikTok Nella pagina Di Nicolas E talvolta Questi video Finiscono anche Su Instagram Sulla pagina Milano Bella D'Addio Con cui Nicolas Collabora Anche Milano Bella D'Addio Infatti si occupa Di questo fenomeno Il fenomeno Delle borseggiatrici Nella metropolitana Nella metropolitana Di Milano Addirittura Milano Bella D'Addio Da qualche Tempo Ha avviato Una petizione Per cambiare La legge In modo che Le borseggiatrici Possano essere Arrestate E che la loro condizione Interessante Non possa essere Sfruttata Per continuare A delinquere Petizione Che ad oggi Ragazzi Ha raccolto Oltre 23.000 firme Ma qual è L'intento Di Nicolas Ragazzi Perché filmare Le borseggiatrici Perché condividere Questi video Su tiktok Ebbene Nicolas vuole Che le facce Delle borseggiatrici Siano riconoscibili Da tutti Vuole che tutti Possiamo identificarle Così che Quando le vediamo In giro Possiamo tenerci Alla larga Da loro Comunque possiamo Stare attenti Possiamo evitare Di farci soffiare Da sotto il naso I nostri beni Il primo video Su tiktok Nicolas lo pubblica Nel maggio 2022 Quindi l'anno scorso Ed è Questo Una tizia Incinta Che tiene aperte Forzatamente Le porte Della metropolitana Nicolas insinua Che proprio lei Sia una Borseggiatrice Però questo video Non prova niente Cioè non Non la sta Accogliendo sul fatto Questa tizia Non sta rubando Però Nicolas Comunque Riprende La faccia Di questa signora E la sbatte Sui social Etichettandola Come Borseggiatrice Di Milano Cosa che potrebbe Benissimo Non essere vera Cioè potrebbe Tranquillamente Essere una Che sta sul culo A Nicolas E alla quale Lui vuole rovinare La reputazione Ben presto Nicolas Pubblica Un altro video Fare attenzione Al portafoglio Che sono Borseggiatrice Queste tre Grazie Grazie Fare attenzione Che sono Borseggiatrice Brave Fare attenzione Al portafoglio Grazie Queste tre Sono Borseggiatrice E poi un altro video E poi un altro video E poi un altro video Tra l'altro Dimostra Che queste Qua non solo rubano E qua non solo rubano in metro Lui sa Lui sa Lui sa ragazzi Ogni giorno Insieme ai suoi amici Si piazza vicino ai binari della metro E urla col megafono Attenzione Borseggiatrici Ogni volta che vede Questo Gruppo di donne Di presunte Borseggiatrici Che si avvicina Ai vagoni Ora A giudicare Dai commenti Che si leggono Sotto i tiktok Il popolo di Milano È grato A questo simpatico Nicolas Di quartiere Finalmente Qualcuno Fa qualcosa Date un premio Nobel Per la pace A Nicolas Le borseggiatrici Dal canto loro Sono sempre più frustrate Cioè loro si sentono Perseguitate Da Nicolas E non lo sopportano più Buongiorno Borseggiatrice Ciao Tra l'altro la loro vita È diventata un inferno Da quando Nicolas Si è lanciato In questa missione umanitaria Sono sempre di più Infatti i milanesi Che le riconoscono E che quindi Non si lasciano derubare Facilmente Le tengono d'occhio E inoltre In molti Stanno seguendo L'esempio di Nicolas Ovvero Non appena le vedono Che cosa fanno Tirano fuori il telefono E fanno il video Ce le filmano Così da avere le prove Nel caso in cui derubino qualcuno Scoppia la crisi Nel settore Della rapina Un giorno Una delle borseggiatrici Viene beccata Viene fermata E Nicolas La filma Mentre Discute con lui Durante questa discussione La donna La borseggiatrice Esordisce Così Così Sentite Vediamo Non dovete stare qua Ho rubato ieri Ho rubato oggi Cosa vi interessa È tutto registrato Quando arriva la polizia Questo Glielo facciamo vedere Anche allora Già lo sanno che rubiamo È il nostro lavoro Dobbiamo rubare È il nostro lavoro Sì È il nostro lavoro Dobbiamo rubare Dillo qua Bene Dillo qua Si ruba Si ruba Analizziamo la situazione Questa donna Sta ammettendo Di avere rubato ieri Di avere rubato oggi Di rubare ogni giorno Davanti all'esercito Cioè se guardate bene ragazzi Sullo sfondo C'è proprio C'è l'esercito C'è proprio Sta camionetta militare Questo mezzo carro armato Ci sono i militari In divisa Con delle fondine Che a me personalmente Metterebbero Una certa pressione C'è scritto Nel tendone esercito E per di più C'è una telecamera Accesa Che la sta riprendendo Comunque Lei Nonostante tutto questo Decide coraggiosamente Di confessare Cioè possiamo dire Che si sta costituendo Eppure La donna Pare non temere Conseguenze Perché quando Nicola se le dice Eh poi questo video Lo mostriamo alla polizia Lei come risponde Risentiamo ragazzi Già lo sanno Che rubiamo È il nostro lavoro Dobbiamo rubare È il nostro lavoro Sì È il nostro lavoro C'è qualcosa che non va Nel discorso di questa borseggiatrice Il cui nome è Laura Si chiama Laura E ha solamente 18 anni Ve la presento Cioè il concetto Il concetto di lavorare Non è fare soldi In qualsiasi modo È prestare un servizio Se fai la segretaria Per esempio Se lavori per un medico Il servizio che offri al medico È rispondere al telefono Al posto suo E segnare gli appuntamenti Gli fai diciamo Questo Questo favore Fai questo lavoro Al posto suo E lui in cambio Ti paga Ma la borseggiatrice Cioè esattamente Per chi lo sta svolgendo Il servizio A chi si sta rendendo utile Per farsi dare dei soldi In cambio A nessuno Solo a se stessa E questo non è lavorare Questo è il contrario Di lavorare A meno che Non ci sia dietro Un datore di lavoro Per il quale Questa donna E tutte le altre Rubano E quindi in questo caso Svolgerebbero Effettivamente Un servizio Per qualcuno Si starebbero Rendendo utili A una persona Che poi le paga Questo spiegherebbe La scelta di parole Di Laura ragazzi Perché Laura Se ci fate caso Non dice solo Noi rubiamo Il nostro lavoro Dice pure Noi dobbiamo Rubare Il nostro lavoro Dobbiamo rubare E in effetti Ragazzi In passato Sono state svolte Delle indagini Dalla squadra mobile Per almeno Due volte Nel 2018 Grazie a delle cimici Si è scoperto Che si tratta Di una grande Associazione A delinquere Composta da pochi uomini Circa otto uomini I quali Controllano Circa Trenta Quaranta donne Che sarebbero Le loro figlie Mogli Cugine Parenti Ecce Ecce Alcune di loro Sono incinte Altre sono minorenni E quindi per questo motivo Sono meno a rischio Di arresto Altre ancora Hanno semplicemente Dei neonati a carico In un modo In un altro Comunque praticamente Ce l'hanno sempre parato Ogni giorno Questi uomini Organizzano Cioè Organizzerebbero Le loro donne In piccoli gruppi E manderebbero Ogni gruppo A borseggiare Una determinata Zona della città Alla fine Della giornata Le borseggiatrici Porterebbero Tutto il bottino Agli uomini I quali Provvederebbero A spartire I guadagni Si tratterebbe Quindi di un vero E proprio Racket Ragazzi Recentemente È stata divulgata Un'intercettazione In particolare Che sicuramente Non è stata scelta A caso Perché Diciamo che Nel nostro Clima politico È una perla Che Cade proprio A fagiolo Un po' troppo Forse Comunque Vabbè In questa intercettazione Uno dei capi Della banda Deride Gli italiani Perché è troppo Facile Prenderli in giro Quindi L'Italia È un paradiso Per gli zingari Parole sue Perché Ragazzi Si Queste donne Questi uomini Questo gruppo Di 30 40 persone Di cui 8 uomini Sono di etnia Rom Ma non finisce Qui ragazzi Perché Se pensate Che ad avere La rogna Siano solo Gli zingari Vi sbagliate Di grosso Torniamo indietro Nel tempo Ancora di più Perché nel 2015 Di indagine Ne è stata fatta Un'altra Ebbene Nel 2015 Due poliziotti Che lavoravano Proprio Alla stazione Centrale Di Milano Sono stati Arrestati Perché ogni giorno Fermavano Le borseggiatrici E dicevano loro Facciamo così Voi ci date I soldi Che avete rubato E noi Non vi Arrestiamo Però se non ci date I soldi Vi arrestiamo E vi togliamo Pure i bambini Al che le borseggiatrici Sganciavano La refurtiva Solo che i poliziotti Invece di restituirla Ai legittimi Proprietari Se la intascavano E così Arrotondavano Lo stipendio Incassando cifre Notevoli O meglio ragazzi I due agenti Sono stati Arrestati Sono stati Arrestati Solo Per due episodi Perché la squadra Mobile è riuscita A provare Solamente Due di questi episodi Di spartizione Del bottino Per un ciociale Di 1600 euro Però ragazzi Ovviamente Si pensa Che sia successo Molte Più volte Anche perché C'è alcune Di queste persone Hanno parlato Hanno testimoniato Considerate che Sono stati arrestati Dopo questa indagine Anche 23 Membri Del clan E alcuni Di questi Ovviamente Hanno raccontato Come questi agenti Rubassero loro I soldi Che avevano rubato Tra l'altro Domanda Potevano questi poliziotti Risalire ai legittimi Proprietari Di telefoni Soldi Eccetera Sì ragazzi Facile Perché magari Cioè è molto probabile Che una volta Che ci si accorge Di essere borseggiati Si vada in centrale A denunciare L'accaduto Anche perché Se ti rubano il portafogli Per rifare i documenti Devi avere la denuncia Non è che ti rifanno La carta d'identità Così perché Perché ti va di rinfrescarla Cioè puoi farlo pure Ma ti costa molto di più E poi c'è Devi segnalare Che qualcuno ti ha rubato I documenti Altrimenti si può spacciare Per te Di conseguenza La polizia Ce l'ha un elenco Delle persone Che hanno subito Un borseggio Alla Alla stazione centrale Di Milano Ne approfitto per dirvi Che Nicolas E i suoi amici Hanno scoperto pure Dove queste borseggiatrici Buttano portafogli I documenti E tutto quello che A loro non serve Perché loro che cosa fanno Ti sfilano il portafogli Si pigliano i soldi dal portafogli Si pigliano magari le carte Non si sa mai Dopodiché il portafogli E i documenti Li buttano via E dove li buttano? Sopra i distributori Delle merendine Oppure Dentro Questo coso Quindi se dovesse Capitarvi una cosa del genere Se dovessero sfilarvi Il portafogli Controllate sopra I distributori E quantomeno Riuscite a recuperare I documenti Meglio di niente Comunque vi stavo dicendo Sono stati arrestati Questi 23 membri Del clan E alcuni di questi Hanno cantato Hanno testimoniato In particolare C'è qualcuno Che ha raccontato Che uno di questi Due agenti Che sono stati arrestati Questo qua Si chiamava Cosimo Una volta Questo cosimo Ha beccato Una borseggiatrice L'ha portata In questura E le ha detto Adesso tu mi dai 5000 euro Altrimenti io Ti arresto E la borseggiatrice Gli ha risposto Guarda oggi Giornata proprio Terribile Non ci sono arrivata A fare 5000 euro A questo punto Cosimo Le avrebbe detto Benissimo Chiama I tuoi colleghi Ti fai portare 5000 euro Qui E me li consegni Sempre questi I membri del clan Che sono stati arrestati Nel 2015 Hanno Parlato di numeri Ragazzi Cioè hanno detto Quanto guadagnavano Rubando Ebbene ragazzi Ha detto a loro Le cifre Oscillerebbero Tra le 100 euro Tra le 100 euro al giorno E le 100 mila euro Al giorno Soldi che poi Vengono suddivisi Tra questi 30-40 membri Del clan Dove si manda Il curriculum Chiedo per un'amica 100 mila euro al giorno Non li fai Manco se vendi i piedi Su OnlyFans A giudicare Dalle indagini Passate Quindi Le borseggiatrici Di Milano Sarebbero Un'associazione A delinquere Che ha a capo Dei veri e propri boss Forse sarebbero Addirittura Costrette A rubare Queste donne E a restare incinti Ogni 9 mesi Contati Magari Subiscono Delle pressioni Delle minacce Ma fermiamoci un attimo Ragazzi E torniamo al TikTok di Laura Il video di Laura Diventa virale Dobbiamo rubare Il nostro lavoro Diventa un meme I social Fanno da cassa Di risonanza E un problema Di cui Fino ad ora Erano a conoscenza Praticamente Soltanto i milanesi Diventa una questione Discussa Da tutta l'Italia Tutti Parlano Delle borseggiatrici Di Milano Che rubano E il loro lavoro E la polizia Lo sa Che rubano E soprattutto Se ne parla tantissimo Su TikTok Il social In cui È scoppiato Il caso Cioè scoppia Il drama Su TikTok Il drama Delle borseggiatrici In che senso? Ebbene Un giorno La tiktoker Kaima Kerbal Non lo saprò pronunciare mai Si riprende A bordo Della metropolitana Di Milano E inquadra Una ragazza Seduta Di fianco a lei In sottofondo Ci mette Un audio Indicabile Indicativo È il nostro lavoro Dobbiamo rubare Rubare È il nostro lavoro Sì È il nostro lavoro Ebbene sì ragazzi È proprio come sembra Kaima è seduta Accanto a una Borseggiatrice Il video diventa virale Così poco dopo Kaima posta Un secondo video Nel quale dice Di avere assistito A qualcosa di sconcertante Voi ovviamente Voi ovviamente nei commenti Mi state dicendo Ma queste sono incinte Mentre lei se ne stava andando Perché è scesa Gli è caduto Una cosa per terra E ovviamente Con tutto il pancione finto Vi giuro Sembrava avesse Delle cartacce Sotto quel pancione Per fingere Di essere incinta Gli è caduta una cosa E si è piegata Letteralmente così Senza pensarci Vi giuro Sembrava avesse Delle cartacce Sotto quel pancione Prossimamente su Netflix La casa di cartacce Si diffonde così Un pettegolezzo Non sarà che queste donne Fingono di essere incinte Per non essere arrestate Questo spiegherebbe Come facciano Essere tanto agili Da correre Saltare i tornelli E picchiare la gente Con un pancione Da ventesimo mese Di gravidanza Tuttavia ragazzi Io non credo proprio Che i pancioni Siano fake Anche perché è successo Che dei giornalisti Chiedessero loro Di mostrare il pancione Alle telecamere Per dimostrare Di essere veramente incinte E queste donne Non si sono create problemi Ci hanno uscito la panza A favore di telecamera Comunque in questo video Caima dice la sua Sulle borseggiatrici Fornendoci Fornendoci Il punto di vista Di una giovane milanese Che prende ogni giorno I mezzi Per spostarsi Sentite cosa dice Ti giuro ogni volta Che io torno a Milano C'è l'ansia costante Perché l'unica cosa Che ti dico Non è Le prenderemo E saranno dentro In carcere No L'unica cosa che ti dico Non è State attenti Ci sono dei ladri Ma non mi dire Inizia anche a darmi fastidio Sta cosa vi giuro Cioè mi dispiace Non potervi aiutare Al meglio Perché comunque Io ne sto parlando Per fare informazione La rabbia che un Che un anziano O un ragazzo giovane O una signora Che sta andando a lavorare Che non voleva avere i cazzo Venga derubato Così Boh E non mi spiego Il fatto che vengano Loro Si hanno foto Tutto Testimonianze Di video Mentre stanno compiendo L'atto Ma niente Non succede Niente Io stesso Ogni volta che entro in metro Sono così Ah no Ce l'ho Ce l'ho ancora Ma dai Ma perché Dobbiamo vivere così Ti ho letto anche certi commenti E loro devono vivere In qualche modo Ma raga Ma stiamo scherzando C'è gente che sta tutto il giorno E le ho mesinare Per 50 euro il giorno Per comprarsi il panino E queste Pure sbruffone Non è che dicono Oddio guarda nella vita Devo rubare No Sono spavalde Ne vanno fiere Sono arrabbiata Infastidita Schifata Magari nelle storie Vi ripubblico le loro facce Perché l'hanno già pubblicata Altre pagine Ma io più di così Non posso fare Boh Vabbè Caima ragazzi Non è l'unica TikToker A esprimere La propria frustrazione Sui social Infatti a questo punto Si fa avanti Anche Antea Morano Sentite che clima pesante Ragazzi Io Oggi Ero in metropolitana E avevo un'ansia Pazzesca Che qualcosa Potesse sfarirmi E stavo tipo Con tutto addosso Cercando di Tenermi tutto Più vicino Più sotto controllo Possibile E vedevo la gente Che faceva la stessa Identica cosa Ti passa vicino Ti passa vicino una persona E tu sei E' proprio brutto Perché si è creata Una diffidenza Tra Tutte le persone Che ti circondano Perché tu Con che diritto Tu Devi rubare qualcosa Che io mi son comprata Con i miei soldi Guadagnati Sudati Bisognerebbe fare qualcosa Soprattutto La città Dovrebbe fare qualcosa L'atmosfera E' terrificante La metropolitana Di Milano A questo punto Si trasforma Nel far west Si guarda Con gli occhi Storti I passeggeri Filmano le facce Delle donne Incinte Che salgono a bordo Si vive nel sospetto Non puoi uscire Indossando oggetti Di valore Come orologi firmati Mi hanno appena derubato Devi tenere Tutte le tue borse Sotto un controllo Ossessivo Se vedi Un anziano O un turista Che sta subendo Un furto Devi decidere Se girarti Dall'altra parte E bruciare All'inferno Oppure avvisarlo E rischiare Di prendere Le botte Dalle borseggiatrici E nel frattempo I tentativi di furto Si fanno sempre più sfacciati Perché a questo punto Le vittime Le sgamano facilmente Le borseggiatrici E alla stazione Quindi scoppiano Sempre più spesso Risse Con luttazioni Sui social Circolano immagini Veramente da far west Qui vediamo Un turista Che tiene ferma Una borseggiatrice In attesa Che arrivino Le forze Dell'ordine Passano 40 minuti E niente Delle forze Dell'ordine Non c'è traccia A un certo punto Vediamo che La borseggiatrice Tenta di divincolarsi E al che scoppia E al che scoppia Una rissa Tra lei E il turista Che si conclude Col turista Che la butta a terra Per immobilizzarla Ovviamente Lei Si mette a urlare Come una iena Anche perché ragazzi Una delle strategie Di queste borseggiatrici E il vittimismo Questo è un altro Dei modi In cui Approfittano Della loro condizione Interessante Della loro gravidanza Quando le cose Si mettono male Fanno finta Di star subendo Un'aggressione Questo video Ne è la prova Nicholas è fuori Dal vagone Mentre la presunta Borseggiatrice È dentro il vagone Quindi già c'è proprio Una distanza fisica Notevole Nicholas si avvicina Al vagone E dice ai passeggeri State attenti Perché lei ruba Una cosa simile Al che la presunta Borseggiatrice Inizia a urlare Guardatele Che male da mare Che male da mare Nessuno vi tocca A chi hai rubato Tu prima Dov'è il portafoglio Della signora Dov'è il portafoglio Che hai preso Qualcuno le offra Una crema amica Le borseggiatrici Sembrano proprio Addestrate A far leva Sui sensi di colpa Come succede In questo caso Vieni Mattias Ammazza mio bambino Vieni Mattias Ammazza mio bambino Il bambino La gravidanza Quindi viene usata Come uno scudo Che usano Per vivere Al di sopra Della legge Senza subirne Conseguenze Né legali Perché sono incinte E non possono essere Arrestate Né fisiche Perché sono incinte E non puoi Difenderti Dai loro attacchi Manco se ti menano Altrimenti rischi Di fare male A un bambino Che non c'entra niente È una situazione Difficile Ingestibile La prendi per i piedi E ti scappa Dalla testa Non si sa Come risolverla Ed è a questo punto Che scoppia la polemica Ragazzi Perché un bel giorno La consigliera Monica Romano Scrive su facebook La seguente cosa Quest'abitudine Di filmare persone Sorprese A rubare Sui mezzi ATM Di Milano E di diffondere Video Su pagine instagram Con centinaia Di migliaia Di followers È violenza Ed è molto Preoccupante Punto La smettano Sia quelli che realizzano I video Sia chi gestisce I canali instagram Che li rendono Virali Di spacciare La loro violenza Per senso civico Perché senso civico Non è Le cittadine E i cittadini Che sanno davvero Che cos'è il senso civico Alzino la voce E invitino A spegnere Le fotocamere Perché non è così Trasformando Le persone In bersagli Che si ottiene Giustizia Dimmi che non prendi La metropolitana Perché tanto c'hai L'autista Senza dimmi che non prendi La metropolitana Perché tanto c'hai L'autista Cioè quando ti indicano La luna E tu guardi il dito La stessa cosa Attenzione Non è che abbia torto Monica Romano Ragazzi Anzi È giusto Quello che dice lei È violento Sbattere sui social E le facce Delle borseggiatrici Perché inevitabilmente Queste Intanto subiscono L'agonia mediatica Cioè sui social Vengono crocifisse Insultate Schifate E poi inevitabilmente Si fomenta pure Un clima di odio Nei loro confronti Che non sai Come si va Come si andrà A tradurre Nella vita reale Magari ci può essere Qualcuno Che le riconosce Per strada E Le mena Però c'è una specie Di paradosso Nel discorso Di Monica Romano Siamo in un contesto In cui L'illegalità È legittimata Le autorità Permettono Alle borseggiatrici Di danneggiare I cittadini In modi illegali Non esiste un'autorità Che si assicura Che loro agiscano In modi illegali Loro rubano Loro menano E questa violenza A loro È concessa Quindi è ovvio Che i cittadini A un certo punto Pretenderanno a loro volta Il diritto Di difendersi Da loro In modi altrettanto Illegali Perché bisogna Pur sopravvivere In questa giungla E che fai I carnefici Possono agire In modi illegali Mentre le vittime No Le carnefici Possono essere Violente Ma le vittime No Le vittime Devono per forza Continuare A essere vittime Continuare A subire Vessazioni Dalle borseggiatrici Continuare A soccombere In nome Poi di che cosa Di una legge Che manco le protegge Di un concetto Di civiltà Che però Cioè Per loro non esipe Cioè è andato A farsi benedire Da un pezzo Monica Romano Ha ragione Quando dice Non è trasformando Le persone in bersagli Che si ottiene giustizia Ma Monica Romano Sa benissimo Che certe volte Ci si sente disarmati E l'unico mezzo Che si ha Per ottenere giustizia O meglio L'unico mezzo Che si sente di avere Per ottenere giustizia È la denuncia sociale Sui social Lo sa così bene Che il 23 novembre Dell'anno scorso Il 23 novembre Dell'anno scorso Monica Romano Aveva pubblicato Questo screenshot Su facebook Questo ragazzi È il commento Di un utente Che l'aveva insultata Sui social Scrivendole Quelle come te Dovrebbero stare Due metri sotto la terra Ora chiamatelo insulto Chiamatela intimidazione Quella di questo utente Sta di fatto Che Monica Romano Si è difesa Postando lo screenshot Su facebook Sui social Senza censurare Il nome utente E usando L'hashtag E io ti pubblico Una campagna social Avviata da Laura Boldrini E promossa Da Laura Boldrini Con le seguenti parole Non tutti hanno Voglia di denunciare Oppure la possibilità Economica di affrontare Un'azione penale Contro gli hater E allora propongo Un'alternativa Fare gli screenshot Agli insulti E ai commenti Violenti ricevuti E poi diffonderli Attraverso Le proprie pagine Tu odiatore Mi offendi E mi umili Sui social Pensando di passare Inosservato E io non solo Non ci passo sopra Ma accendo un faro Sulle tue sciocchezze Fatelo anche voi Facciamolo Tutte insieme Praticamente Laura Boldrini Ragazzi propone L'agonia mediatica Come autodifesa Dal bullismo Facciamoci giustizia privata Sostituiamoci Alle istituzioni E pugniamoli noi Gli hater Anche quando Semplicemente Non abbiamo Voglia Di denunciare Perché lei dice Non tutti hanno Voglia di denunciare Quindi non si tratta Neanche di non avere La possibilità Di denunciare Perché magari Le forze dell'ordine Ti lasciano sbattere Come succede a Milano Nel caso delle Borseggiatrici No Qua la si pone Come una questione Di mera pigrizia Ora Alla fine del post Ragazzi Laura Boldrini Coinvolge In questa operazione In questa Missione Di giustizia privata Una lunga serie Di deputate Tra cui Proprio Monica Romano Che la ringrazia Gentilmente Come abbiamo visto Poco fa Aderisce pure Alla campagna Sbattendo il nome Del suo odiatore Sulla propria pagina Con milioni di followers Proprio lei Che oggi fa La morale A Nicola Svaccaro Dicendo tutta indignata Ah non è senso civico Sbattere Le facce Delle persone Nelle proprie pagine Con milioni Di followers Non è così Che si ottiene Non è trasformando Le persone in bersagli Che si ottiene Giustizia Quindi che cosa La deduciamo Che Monica Romano Questa morale A Nicola Se non la sta facendo Perché effettivamente Tiene Ai diritti umani Delle borseggiatrici Gliela sta facendo Perché Perché lei è Nell'aggiunta comunale Del sindaco Beppe Sala Quindi Nicola Se i suoi amici La stanno banalmente Mettendo in imbarazzo E anche per oggi La sinistra italiana Mette in imbarazzo Sa di fatto Che a questo punto L'opinione pubblica Si spacca in due Da una parte C'è chi dice Non è giusto Filmare le borseggiatrici Dall'altra parte C'è chi dice Filmare le borseggiatrici È giusto E io andrei ad analizzare Entrambi i punti di vista Perché secondo me Qui hanno tutti ragione In realtà Cioè è difficile Scegliere da Che parte schierarsi Quanto meno per me Quindi ditemi voi Quale di queste due Visioni A quale di queste due visioni Vi allineate Ecco Punto di vista numero uno Non è giusto Filmare le borseggiatrici Filmare il volto Di una persona E condividere i video Senza il suo consenso È già di base Una violazione Della privacy È reato Condividere il volto Di una persona Sui social Scrivendo Lei è una borseggiatrice Senza che neanche Venga ripresa Mentre borseggia È diffamazione Di nuovo È reato Inseguire con la telecamera Accessa Sempre le stesse persone Filmarle ogni giorno Della loro vita Potrebbe essere considerato Stalking E anche questo sarebbe Reato Condividere video come questo In cui la protagonista Viene presa in giro E resa oggetto di schermo Da parte di milioni Di persone sui social Potrebbe essere Cyberbullismo Incitazione all'odio È reato Non lo so Forse Filmare queste presunte Borseggiatrici E sbattere le loro facce Sui social Potrebbe metterle In pericolo Perché qualcuno Potrebbe sentirsi libero Di aggredirle Filmare queste presunte Borseggiatrici E condividere i video Sui social Crea un clima Di odio Crea un clima Di caccia Al nemico Caccia alle borseggiatrici Come testimonia L'esperienza Della povera Monni Una tiktoker incinta Che in quanto incinta In metropolitana È stata scambiata Per una borseggiatrice E le è successa La seguente cosa Ragazzi Sentite Praticamente Io ho questa collana Per chi non sapesse Questa qua è una collana Che fa questo rumore Si chiama Chiama Angeli Io comunque ho una collana Porta Fortuna E la indosso Perché Sono incinta Sono al terzo mese Quasi al quarto Però magari di giorno Cioè la sera Mi si gonfia un po' di più La pancia Capito Ma di giorno Magari ce n'è un po' di meno Ma perché è una cosa normale Nei primi mesi Allora niente Salgo in metro E mi sono seduta E mi sono Ma perché c'erano tanti posti Cioè non è che volessi sedermi Proprio io odio Sedermi vicino alle persone E mi sono tolta il giubbottino E allora Io avevo le Airpods Quindi non sentivo bene Cosa stesse dicendo Questa signora E era lì con un'altra sua amica E mi guardavano Proprio male Proprio storto Vabbè A un certo punto Cosa succede Che questa qua Mi fa Cioè mi tocca proprio Io faccio tipo Sì Ma non ti vergogni Faccio Di che cosa Di indossare questa collana Che è una cosa anche importante Io faccio No guarda Non ho capito Voi indossate queste collane Per far finta di essere incinta Io ti ho vista Noi rubiamo Noi rubiamo Vi giuro Io ero Ma poi perché stavo alzando la voce Capito Quindi la gente Mi guardava un attimo così E c'era tipo un altro tipo Che aveva lo zaino Allora iniziò a spostarlo Cioè già gli stavo sbiancando Però su guardi Mi sa che ha sbagliato persona E comunque Non sono io Cioè Io non sono una borseggiatrice Raga Da lì a 20 secondi Questa si alza in pieni Inizia a urrare Come una pazza Lei è una borseggiatrice Mettetevi alle vostre cose Quindi ero tipo là Così scandalizzata Poi immaginatevi Tutta la metro Capito Cioè mi stavano proprio Guardando di me Poi li vedevo Le persone che si spostavano Ci volevo andarmi E nulla Allora a un certo punto Non so come Un angelo divino Arriva questa ragazza Che mi seguiva su TikTok E fa Guarda la ragazza è anche Conosciuta Tra tantissime virgolette Ed è davvero incinta E comunque non è una borseggiatrice Non l'avesse mai fatto Si alza l'altra L'altra signora L'amica Tu sarai la complice Lo trovate I portafogli Poi sono scelta E non so se vorrò Prendere ancora la metro In sostanza Se sei incinta A prendere la metropolitana A Milano In questo periodo Non ti conviene A meno che Non la prendi per borseggiare In tal caso Vai tranquilla Hai più tutele Di un dipendente regionale Filmare le presunte Borseggiatrici È scorretto Pure per un altro motivo Ovvero Perché queste donne Non possono difendersi Nelle debite sedi Qualora non siano Veramente borseggiatrici Come viene scritto Sui social Non possono denunciare Per diffamazione Per violazione Della privacy Per stalking Eccetera In quanto È emerso Che alcune di queste donne Non abbiano neanche i documenti Dice stiamo comunque parlando Di donne rom E purtroppo alcune di loro Non hanno i documenti In regola È quindi sbagliato Filmare le borseggiatrici E metterle sui social Sì È illegale Sì Ma fino a che punto Le colpe di chi le filma Sono di chi le filma E qui Andiamo ad analizzare L'altra campana Punto di vista numero 2 È giusto filmare Le borseggiatrici Punto esclamativo L'agente come Nicolás Ha provato a fermare Questi borseggi Per vie legali Chiedendo aiuto Alle forze dell'ordine Alla questura Alla procura Denunciando Addirittura Mostrando i video Mostrando filmati Che ritraggono Le borseggiatrici In azione Alla polizia Ma le istituzioni Non solo Non hanno preso Alcun provvedimento Ma è capitato Che abbiano pure Scoraggiato Le vittime Dal denunciare Ricordiamo infatti Che Cristina Errora Dopo avere visto Con i propri occhi Le borseggiatrici Commettere un furto E dopo essere stata Personalmente Picchiata Da loro Si è sentita dire Dalla polizia Non le denunciare Non serve a niente Ricordiamo anche La borseggiatrice Più famosa Di TikTok Che esordisce Davanti all'esercito Italiano Dicendo Cioè lo sanno Che rubiamo Ah Anche perché Stavo dimenticando Di parlarvi Della legge Catarbia Ragazzi Errore imperdonabile La legge Catarbia È la novità Dell'ultima ora Cioè adesso Grazie alla legge Catarbia Il furto È perseguibile Come reato Solo dietro La querela Della vittima Mi spiego meglio Ci sono reati Che sono perseguibili A prescindere Cioè se uno commette Un omicino Non è che per forza Deve essere la vittima A denunciare Il suo assassino Cioè anche se La famiglia Della vittima Non sporge Denuncia Lo stato Il colpevole Lo cerca Comunque Lo processa Comunque E lo punisce A prescindere Dal fatto che Qualcuno Sporga Denuncia Contro di lui Paghi degli Avvocati Per Per difendere La vittima Eccetera Eccetera Ed è così ragazzi Per gran parte Dei reati penali Però per alcuni No Per alcuni Non è così Per esempio Se ricordo bene La truffa Cioè se non è la vittima Della truffa A denunciare La persona Che l'ha truffata E quindi Se non è la vittima A pagare Le spesi legali Il processo Non viene fatto Il truffatore Viene lasciato stare Ebbene Grazie alla legge Catarbia Adesso è così Pure per il furto Devi essere Tu a denunciare Chi ti ha derubato Altrimenti La passa liscia Questa persona E ovviamente Se ti rubano 50 euro Dal portafogli Che fai Paghi 3000 euro Di avvocato Se ti rubano Una mela E quindi Che dobbiamo fare Per tutelarci Perché non è che Io lavoro Per regalare I miei soldi Alle borseggiatrici Se arrestarle Non si può Se le autorità Non fanno niente Allora ci diamo Aiuto da soli Divulghiamo Le facce Di queste Borseggiatrici E vediamo Quanto meno Di riconoscerle E stare attenti A loro Tutti quanti Non è che Ci possiamo Accollare Il problema E basta Non è che Chi commette Reati Può fare Quello che Chi subisce Il reato Invece Deve Per forza Sottostare Alla legge Perché altrimenti Ha che schifo Una persona Violenta O la legge Fa parte Dell'equazione Oppure Non fa parte Dell'equazione Facciamo Che la metropolitana È territorio Anarchico Ripristiniamo La legge Della giungla E sopravvive Chi è più furbo Più forte E più veloce Sarebbe comunque Una soluzione Più equa Di quella Che c'è per ora Perché È incredibile Che chi gestisce Milano Ha il potere Di fare qualcosa Non pronunci Mezza parola Contro un sistema Che tutela Chi borseggia Ma poi si indigna Così tanto Di fronte a chi Dopo anni E anni A subire Borseggi Filma Le borseggiatrici E le mette su TikTok Cioè Analizziamolo tutto Il problema A 360 gradi Invece di Condannare Cecamente Solo Chi Le filma Perché La verità È che nessuno Ha voglia Di filmare Le borseggiatrici Non è che lo si fa Per passatempo O per cattiveria È un modo disperato Per tentare Di risolvere Un disagio Che legalmente Non si può Risolvere E se ci pensate È anche il modo Più civile Che Si Che I milanesi Hanno trovato Per difendersi Dalle borseggiatrici Perché Non è che Hanno organizzato Una squadra Di Omoni Per andarle A pestare E farle Smettere Con le maniere Forti O con le minacce Le intimidazioni Come forse Sarebbe successo Dalle mie parti Semplicemente Le si vuole Riconoscere Così che Le vittime Stiano attente Cioè Le prede Prese di mira Si possano Cioè Stiano attente Non è una forma Di punizione Verso chi Delinque È una prevenzione Per chi Potrebbe Subire Non dovrebbe Andare così Non dovrebbe Essere compito Della vittima Tutelarsi O farsi Giustizia Ma qual è L'alternativa Cioè se non ti puoi Permettere Un mezzo privato Tipo la macchina Il motorino Come ti sposti Prendi Prendi L'Uber No Perché in Italia Uber è stato Bandito Adesso non ti puoi Spostare con Uber Perché è illegale Quindi Cioè Niente Vi do un passaggio Monica Romano A questo punto C'è un colpo di scena Ragazzi Una cosa che Non vi aspettate Le borseggiatrici Vengono Ospitate In televisione In un salotto Televisivo Dalla trasmissione Dritto E rovescio Questa cosa Indigna L'opinione pubblica Perché si mettono Tutti a dire Ma si Facciamole diventare Influencer Mandiamole pure Al grande fratello Vip Già che ci siamo Alfonso Signorini Vedi che cosa puoi fare Però in realtà Secondo me ha senso Ragazzi Scherzi a parte Perché io sono dell'idea Che per risolvere Un problema Prima Bisogna comprenderlo Bisogna studiarlo E Oltretutto Penso che a nessuno Piaccia veramente Rubare Almeno che non parliamo Di un cleptomane Ma visto che Abbiamo a che fare Con una squadra Di 50 persone Non penso che Insomma Siano tutte Accomunate Dallo stesso Disturbo Dalla stessa Cleptomania Cioè non penso Si siano conosciute Sul gruppo Facebook Cleptomani Di Milano Probabilmente La loro condizione È dettata Da un Disagio È quindi È importante Capire cosa Cosa ci sia Dietro Queste borseggiatrici O chi Ci sia Dietro Cioè è importante Capire perché Queste donne Rubino Per Arrivare A una soluzione Come lo risolviamo Il problema Alla radice Dritto e rovescio Decide di chiederlo Direttamente a loro Alle borseggiatrici E sarebbe anche Cosa buona e giusta Se non fosse Che dritto e rovescio Fa una cosa Abbastanza squallida Per un programma Di attualità Invece di scrivere Nel titolo Le borseggiatrici Ancora in azione Scrive Le rom Borseggiatrici Ancora in azione Concentrando L'attenzione Non più sul reato Come era stato Finora Perché finora Si è parlato Di borseggiatrici Ma Sull'etnia Di queste donne Tant'è vero Che il rom Viene scritto Addirittura Prima di borseggiatrici Che suona pure male Rom borseggiatrici Capito Cioè posso capire Borseggiatrici rom Sono dettagli Che ti fanno capire Quale sia La priorità Della trasmissione Cosa si vuole dimostrare E infatti Da prima Dritto e rovescio Fa il servizio Sulle rom Che borseggiano In metropolitana E poi Ci infila In mezzo Un altro servizio Su una questione Che Con i borseggi Ragazzi Non c'entra niente Cioè Praticamente L'invitata Va a bussare Alle case Occupate Dai rom Dimostrando Che in alcune Città d'italia Che non sono Manco milano Cioè se ne va Torino Capito Ci sono delle case Occupate Dai rom Ma il tutto Mentre si sta Parlando Delle borseggiatrici Cioè tra un'intervista A una borseggiatrice E l'altra Questa se ne va A Torino Per fare vedere Che i rom Occupano le case Di Torino Ma Ma che c'entra Si sta gettando Discredito Su un'etnia Raccontando Una dietro L'altra Notizie Negative Che riguardano Alcune Persone Che appartengono A queste Di questa etnia Per intenderci Ragazzi È come se Dritto e rovescio Facesse un servizio Su un clan Di mafiosi Che chiedono Il pizzo E tra una Discussione E l'altra Mandasse in onda Un servizio Su una banda Di siciliani Che ruba I motorini Per rivenderli A Ballarò Cioè Che c'entra Sarebbe evidente L'intenzione Di insinuare Che il problema Siamo noi Siciliani Sarebbe evidente La manipolazione Dell'opinione pubblica E questo Inevitabilmente Andrebbe a influenzare Il modo In cui la gente Del nord Guarda a me Che sono siciliana Ma che con tutto Su bordello Non c'entro niente È come me La maggior parte Degli altri miei Conterranei Non è che io Chiedo il pizzo Rubo i motorini E non puoi condannare Me per un reato Che ha commesso Il mio vicino Di casa Ma si fotta E infatti La popolazione Rom Insorge E nella puntata Successiva Di dritto e rovescio Viene mandato in onda Questo servizio In cui Due persone Rom Parlano Anche abbastanza Arrabbiate A nome di tutto Il loro villaggio Dicendo Noi qui non ne abbiamo Borseggiatrici In questo villaggio Ladri non ce ne sono Manco sappiamo Chi siano queste donne Noi non rubiamo Noi lavoriamo Onestamente Come chiunque altro E francamente Preferiremmo Non essere associati Alla criminalità Quelle ragazze Non fanno parte Di questo villaggio Non ci sono Borseggiatrici Nel nostro villaggio Io condanno Fermamente Quella cosa lì Non ne voglio Avere che fare Non fanno parte Della nostra comunità Io sono contro Quella cosa lì Se non ci credete Andate nelle caserme Dei dintorni Del nostro villaggio E chiedere Se è mai successo Un scippo Qua vicino a noi Allora Questa rabbia Della comunità Rom Secondo me È comprensibilissima Perché? Perché il razzismo Di dritto e rovescio È stato E effettivamente Sconcertante E non solo Per il modo scorretto In cui si è affrontato Il fenomeno Delle borseggiatrici Ragazzi Sarò pretenziosa Io forse Non lo so Però Io penso che Prima di mandare In televisione Un servizio Un programma Di attualità Tanto prestigioso Come dritto e rovescio Dovrebbe un minimo Studiare Quello di cui Si accinge A parlare E invece Abbiamo assistito In diretta nazionale A un'inviata Che ha chiamato I rom Nomadi E che ha parlato Di campi nomadi Aveva dato Alle famiglie nomadi Un contributo Di mille euro Magari voi non lo sapete Si tratta di Cioè io non lo sapevo Per questo dico Magari non lo sapete Perché magari lo sapete Però si tratta Di espressioni scorrette Sbagliate E profondamente Razziste Ragazzi Ma se voi non lo sapete Cioè ci sta pure Perché Non state facendo Un servizio Sulla popolazione rom Ma che non lo sappia Questa giornalista O che non lo sappia Nessuno in tutta la trasmissione Significa veramente Che non hanno speso Neanche dieci minuti Per approfondire L'argomento Ve lo giuro Ragazzi C'è tipo la prima cosa Che trovi E per farvi capire Quanto sia offensivo Il modo in cui è stato Trattato questo caso Apro una piccola Inocua parentesi Sulla storia Cioè tutto quello Che sapevo Che sapevo sui rom È una boiata Già che sapevo poco Però Insomma Quel poco che sapevo Era tutto sbagliato Cominciamo con questo pippone Via La popolazione rom Intanto non si chiama rom E questa è la prima Si chiama romanì E si suddivide in cinque gruppi Ognuno ha le proprie caratteristiche E i rom sono solo uno Di questi cinque gruppi Però ragazzi Gli spinelli Sono accollativi E dicono Vabbè Per comodità La chiamiamo tutti rom Tanto l'importante è capirci Quindi anche noi Per comodità Parleremo genericamente Di popolazione rom I rom inizialmente Ma quando dico inizialmente Parlo di una vita fa Proprio nel terzo secolo Erano indiani Stavano in India E non erano nomadi Cioè questo è poco ma sicuro Erano un popolo stanziato Come qualunque altro Di questo ragazzi Siamo veramente sicuri Anche perché i rom Parlano una lingua Tutta loro Che sarebbe la lingua Romanesse E tra le parole Più antiche del romanesse Ce ne sono molte Che sono legate Ai concetti di Casa Villaggio Porta Eccetera Eccetera Tutte parole che Servono e nascono Quando il tuo stile Di vita È sedentario Al contrario Parole romanesse Come carrozzone Accampamenti Tenda Strada Sono parole più recenti E derivano Da altre lingue Somigliano per esempio A parole spagnole Questo significa Che sono nate In un secondo momento Quando La lingua romanese Si è incontrata Con la lingua Queste tribù litigano Tra loro Continuamente Le riunioni di condominio Sono una carnificina Oltre questo ragazzi C'è un problema Più grave Cioè ci sono le piogge Monsoniche Che ogni due per tre Devastano il raccolto Quindi in india Le tribù vivono Lunghi periodi Lunghi periodi di carestia Durante questi periodi Di carestia Si fa la fame Per questo motivo Alcune tribù indiane Fanno i bagagli Ed emigrano In Persia Tipo noi quando facciamo I bagagli Ed emigriamo in Germania In cerca di un futuro migliore Stessa cosa In questo periodo Nel frattempo Nasce L'islam Minch Non potete capire Che problemone Per gli indiani Che sono emigrati Ragazzi Perché sotto il nome Dell'islam Le tribù arabe Si uniscono Tutti insieme Perché fino ad ora Erano molto divise A questo punto appunto Sotto l'islam Si uniscono Si mettono d'accordo E decidono Di espandersi E portare La loro religione Nel mondo E conquistano Giusto giusto La Persia Dove ci sono Gli indiani emigrati Alla ricerca Di un futuro migliore E qui inizierete A notare Un leitmotiv Ragazzi La popolazione rom È nata Sotto il segno Zodiacale Della sfiga Cioè Sono secoli Che Questo popolo Si sforza Di migliorare La propria condizione E certe volte Ci riesce Solo che Non appena Ci riesce Sbada BAM Botta di sfiga Gli arabi Quindi Conquistano La Persia Benissimo Il sultano Di questo esercito Arabo Si chiama Mahmud Di Ghazna Per gli amici Mahmud Come quello Che ha vinto Sanremo L'anno scorso Così ce lo Ricordiamo Facile Mahmud Arrivato in Persia Impazzisce Cioè Proprio Non capisce Più niente Fa razziare Tutte le terre Perché vuole I loro Soldi Soldi E non contento Mahmud Fa prigionieri Gli indiani Che abitano In Persia E gli offre Una scelta A questi prigionieri O vi convertite All'islam E diventate Schiavi nostri Schiavi degli arabi Oppure vi taglio La testa Fate voi Liberamente Ragazzi Questi indiani Quindi che fanno Si convertono Chiaramente E vengono venduti Al mercato Degli schiavi Che è un mercato Organizzato Bene Tra l'altro Ma che dire Cioè Di che religione Erano inizialmente Se non sbaglio Se non sbaglio Induisti Comunque dicevo Questi indiani Si convertono E vengono venduti Al mercato Degli schiavi Che è un mercato Organizzato bene C'è il reparto Donne C'è il reparto Uomini C'è il reparto Bambini Tipo OVS Le donne Diventano Tipo Balie Oppure donne Di compagnia Delle famiglie arabe Quando vengono comprate I bambini Vengono educati All'islam E quindi Si integrano Nella comunità Crescendo comunque Come cittadini liberi Mi sembra di aver capito Così Mentre Gli uomini Vengono messi Ai lavori forzati E questa è una cosa Importante Ragazzi È un momento Chiave Vengono messi A costruire Le strade Gli edifici E a svolgere Manodopera Per costruire L'impero persiano Quindi diventano Abili Nei lavori manuali Ricordatevi Questa cosa Ragazzi Ora In persiano Uomo Al tempo Si diceva Domba Quindi tutti Questi schiavi Che costruivano L'impero persiano Venivano detti Dom Come abbreviazione Di Domba Passano anni E a un certo punto Iniziano i commerci Dalla Persia Per cui questi Dom Vengono mandati A commerciale Con gli altri popoli Per esempio Nei territori Balcanici Ed è così Che tanti Dom Si ritrovano In questi territori Balcanici E dicono Ma sapete cosa Qui stiamo bene Chi ce lo fa fare Di ritornare in Persia E così Tanti Dom Si stabiliscono Tutti insieme Appassionatamente Nei Balcani Quindi in tutta la parte Della Romania Della Serbia Dell'Albania Della Bosnia Della Slovenia Della Croazia E credo anche Della Grecia Vabbè A questo punto Che la parola Dom Subisce L'influenza Delle lingue Balcaniche E si Digievolve Ragazzi Diventando Rom Cioè Dom Diventa Rom Ora Se vi ricordate I Rom Erano stati costretti A convertirsi Tutti all'Islam Pena la decapitazione Ci si sono dovuti Convertire tutti Per forza Chi non si è convertito E' morto E questo è un problema Perché le popolazioni Balcaniche Sono cristiane Molto cristiane E quindi Guardano male Questi Rom O Dom Che dir si voglia Appena sbarcati Dalla Persia Perché sono troppo Islamici Per i loro gusti Erano altri tempi Ragazzi A quei tempi Lo sport Più in voga Erano le crociate Cioè cristiani E musulmani Erano arcinenici Salvini Era la norma Per questo motivo I Rom Vengono emarginati La gente Manco si avvicina All'oro Ironia Della sorte Visto che appunto Erano stati tutti Costretti a convertirsi All'Islam Però in realtà Non è solo questo Ragazzi I Rom Vengono considerati Strani Dalle popolazioni Balcaniche Anche per un altro motivo E cioè perché Venendo dalla Persia O meglio Essendo comunque Originali Dell'India Si vestono Anche in modo Diverso Rispetto All'oro Magari Indossano abiti Più colorati Hanno tratti Somatici Diversi Poi sono sbarcati Tutti insieme All'improvviso Quindi che cosa Succede Che la gente Li vede Percepisce Una diversità E li definisce Strani E li scambiano Per un altro Popolo O meglio Li scambiano Per una setta Eretica Che a quel tempo Era molto nota Sto parlando Ragazzi Della setta Degli Azzingani Che tradotto In lingua Odierna Significa Gli Intoccabili Gli Azzingani Erano una setta Eretica Che si spostava Di città In città Quindi erano Nomadi Per questo I Balcanici Pensavano Che questo Popolo Sbarcato All'improvviso Fosse Questa setta Per questo Sono stati Scambiati Per gli Azzingani I Rom Questi Azzingani Praticavano La magia Era La magia Era gente Pagana Quindi immaginate Come li vedevano I cristiani Eretici Stregoni Proprio Intoccabili Infatti si chiamavano Gli Intoccabili Azzingani Termine Che nel tempo Si è digievoluto Diventando Zingari Quindi ragazzi I Rom Vengono scambiati Per gli Zingari Che praticano La magia E sono Nomadi E pertanto Anche loro Vengono considerati Intoccabili E pertanto Vengono Ghettizzati Vivono tutti insieme Vicini Vicini Lontani Dalle popolazioni Locali E la gente Non vuole comunicare Con loro Quindi non riescono A integrarsi Ma La gente Rom Non si arrende Infatti Negli anni di schiavismo In cui gli uomini Rom Per forza Hanno dovuto Costruire strade Edifici Ma questi uomini Sono diventati Molto abili Come vi dicevo Prima Nella manodopera Nei lavori manuali E hanno imparato A fare Proprio un sacco di cose C'è chi si è specializzato Nel lavorare Il ferro C'è chi si è specializzato Nel lavorare Boh Il legno Chi nel dipingere Chi nel costruire Insomma Nell'artigianato La gente Rom Se la cava Alla grande E così Gli uomini Rom Mettono Le loro abilità Al servizio Del popolo Si mettono A lavorare Come artigiani Fabri Falegnami E quant'altro Ma non solo Ragazzi Per dimostrare La loro volontà Di integrarsi I rom Si convertono Tutti Al cristianesimo Ed è così Che molte famiglie Rom Riescono a inserirsi Nel tessuto sociale A vivere E lavorare Come chiunque altro Ma a un certo punto Svadabam Che succede Il 29 maggio 1453 Interrogati La conquista Di Costantinopoli Il sultano Musulmano Maometto Secondo Conquista Costantinopoli Capitale Dell'impero Bizantino Che comprende Anche i Balcani Per ovvi motivi A Maometto I cristiani Stanno un po' Sul culo E quindi Che fa? Fa diventare Schiavi I cristiani E i rom Si erano giusto Appena convertiti Dall'islam Al cristianesimo Ragazzi Ma la sfiga Vabbè E quindi Che si fa A questo punto? Dobbiamo fuggire È il nostro lavoro Dobbiamo fuggire Si fugge I rom Che riescono A fuggire Vengono da queste Parti Nel territorio italiano Precisamente nella zona Che oggi è Bologna Non lo so se al tempo Fosse già Bologna Comunque I bolognesi del tempo Si vedono arrivare Questa flotta Di persone In condizioni difficili Che parla una lingua Non meglio identificata E non sanno Che cosa farsene Dove li mettiamo A questi? Chi sono? Spunta il Salvini Del passato Che dice Tutti a casa Prima i bolognesi Si comincia così A parlare Del problema dei rom Cosa dobbiamo Farcene Di questi rom? Nel frattempo Alcuni di loro Quelli che magari Hanno un mestiere in mano Ad esempio Quelli che stanno Lavorare il metallo Il legno Conoscono qualche mestiere Artigianale O magari sono musicisti Artisti Si mettono a disposizione Offrono i propri servizi Alla comunità E bisogna dire Che Vengono accolti E integrati Nel tessuto sociale Sia loro Che le rispettive famiglie Per tutti gli altri Però non c'è posto Se non mi sei utile Non ti voglio Te ne devi andare Via E così ragazzi Tutte le altre persone rom Vengono sgomberate Cioè vengono cacciate Da Bologna Andatevene Dove andiamo? Non si sa Fate voi Basta che ve ne andate da qui Perché già siamo assai I rom quindi Si mettono in viaggio Alla ricerca di un posto In cui andare Immaginate sto carrozzone Di gente Che cammina tra strade Che manco conosce Senza navigatore Senza segnali stradali Perché al tempo non si usavano Senza conoscere la lingua locale Senza sapere che popoli Avrebbero trovato Due chilometri più avanti Brancolare nel buio Proprio completamente Che succede Che la gente Vede passare Questi gruppi rom Di città in città Li si vede vagabondare Ed è a questo punto Che nasce lo stereotipo Del rom nomade Perfetto Solo che questi Non erano nomadi Erano stati cacciati Purtroppo ragazzi Siamo fatti di carne E a una certa Questi cominciano Ad avere fame E non hanno che cosa Mangiare E quindi qualcuno Si mette a chiedere Le lemosina Però qualcun altro Si mette pure A rubare il cibo Ed è a questo punto Che si solleva Il malcontento Delle popolazioni locali Ma questi Che cosa vogliono Da noi Quando se ne vanno Che ci rubano Il mangiare Cominciano ragazzi A nascere Dei pettegolezzi I primi pregiudizi Contro queste persone Si dice che la loro Non sia una lingua Ma quale romanes Questi hanno Un codice criminale Con cui comunicano Anche davanti a noi Per mettersi d'accordo Sui crimini Da compiere Per comunicarsi I loro schemi Tutte queste cose Si dice che siano Tutti criminali Non li vuole nessuno Aiutiamoli a casa loro Ma non hanno una casa Ed è a questo punto Che i sovrani Decidono di fare qualcosa Per risolvere il problema Dei rom Perché sti rom Sono un problema Per il popolo Rubano Disturban Mi sta salendo L'accento di Di barbero E che nella mia testa Ho la sua voce Questi rom Sono un problema Per il popolo Rubano Disturbano Non Non li si vuole E quindi nel 1483 La Repubblica di Venezia Accusa i rom Di essere spie Dei turchi Così a caso Per inciso La Repubblica di Venezia Era in guerra Con i turchi E quindi dice Visto che questi Sono spie Ucciderli Non è il reato Anzi Vi dirò di più Chi uccide un rom Può prendersi pure I suoi averi Se ne ha Boom Comincia così Una caccia all'uomo Che porta i rom Della Repubblica di Venezia A fuggire Se ne vanno In cerca Di un altro posto In cui stare Ma ovunque vadano Ragazzi Viene emanato Un bando Contro di loro Ovunque vadano Il sovrano locale Poco dopo il loro arrivo Dice I rom Devono subito Abbandonare il territorio Uccidere un rom Non è il reato Chi ne uccide uno Non verrà sanzionato E potrà pure Prendersi i suoi averi Se ne possiede Nel 1533 Addirittura si arriva Al punto Che in alcuni luoghi Vengono indetti premi Per chi cattura E uccide un rom In alcuni luoghi Vengono arrestati In altri Arrivano E vengono subito Marchiati a fuoco Poi vengono frustati E in altri posti Vengono condannati All'ergastolo I rom Scappano A destra e a manca E questa situazione Va avanti Per secoli Tra il 1483 E il 1785 Solo lo stato pontificio Emana 79 Bandi anti rom E quindi Questi Scappa di qua Scappa di là Ma ovunque vanno C'è un bando Contro di loro A questo punto I rom Non sanno più dove Cioè non solo Non sanno più dove andare Ma materialmente Non possono manco Lavorare Per campare Non è che vanno Non è che vanno a cercare Lavoro Oppure si propongono Come fabbri Capito Perché se qualcuno Li trova Li ammazza Quindi non possono Fare altro Che vivere In clandestinità Si nascondono Si proteggono A vicenda E vivono Spostandosi Continuamente Per non farsi trovare Per non farsi ammazzare E non potendo Lavorare Ragazzi Sono costretti A sopravvivere Rubando Questo ovviamente Non fa che confermare Le decisioni Dei sovrani I cui bandi A questo punto Sembrano giustificati I rom Sono criminali E effettivamente Rubano Si ruba È il loro lavoro Loro rubano E quindi Bandirli è giusto Ma la verità È che rubano Perché sono stati banditi Questa situazione Ragazzi Va avanti Come vi dicevo Per secoli E durante questi secoli Ci sono quei pochissimi rom Quelle pochissime eccellenze Talmente intelligenti Talmente pieni di risorse Furbe E in alcuni casi Talmente fortunate Anche magari Da riuscire A emanciparsi Da riuscire In qualche modo A integrarsi Nel tessuto sociale A superare Le discriminazioni A trovarsi un lavoro Spesso Grazie a qualcuno Che dall'esterno Gli tende la mano Decide di prendere Sotto l'ala Qualcuno di loro E aiutarlo Però ovviamente Ragazzi La gran parte Delle persone rom Rimane indietro E i più Continuano a vivere Nell'ombra Nell'ottocento Peggiora tutto Cioè Quando tu dici Peggio di così Non può andare È a quel punto Che si diffonde La teoria Dell'eugenetica Cioè In pratica Si diffonde L'idea Che si possa migliorare La razza umana Forzando la selezione Naturale Ad esempio Non facendo riprodurre Chiunque sia imperfetto La teoria Alla base Del nazismo Ragazzi Della Rattariana E infatti Questa filosofia Viene accolta Molto favorevolmente In Germania Dove c'è un signore Con dei baffi Di dubbio Gusso Che dice Gli zingari Intendendo i rom Sono una razza Inferiore Dobbiamo fare In modo che Non si mescolino Con la rattariana Altrimenti Ci mandano In bacca Leogenetica Ed è così Che ragazzi Sia in Italia Sia in Germania Vengono costruiti I cosiddetti Campi speciali I campi Per le persone Rom Cominciano I rastrellamenti La polizia Va a cercare Le famiglie Rom Le piglia E le porta Tutte in questi Campi speciali Ironia della sorte Le prime famiglie Essere trovate Sono quelle Che si erano Perfettamente integrate Avevano trovato Lavoro E quindi Giustamente Trovarle Era più facile Sbada bam La sfiga La morale Della favola Per la gente Rom E che se ti Integrita Pinder culo Ma questi Campi speciali Sono così male Cioè alla fine Quanto meno Adesso Ci hanno un posto In cui vivere I rom Sempre meglio Di vagabondare Penserete voi No ragazzi Perché intanto Questi campi Vengono Arroccati Lontani Dalla vista Della popolazione Perché Perché Non devono Disgustare Gli altri Capito Quindi Già A livello Di dignità Umana Non ci siamo Cioè non era Gran che Venivano veramente Trattati come Immondizia Letteralmente Ragazzi Nella considerazione Che alcuni di questi Campi sono stati Costruiti Nelle discariche Poi Non finisce Non finisce qui Ragazzi Questi campi Erano sorvegliati Dalla polizia E quindi tipo La gente Non è che poteva Entrare e uscire Non è che potevi andare A fare due passi Per prendere aria O a comprare le sigarette Era una detenzione E cosa peggiore di tutte Ragazzi in questi campi La gente viveva Ammassata Cioè in un piccolo Campo rom Venivano buttate Centinaia di persone Spesso senza Né acqua Né luce E se dovevi andare in bagno Erano problemi per tutti Da questi campi I rom Verranno spostati Dai nazi Una sola volta Verso Houl In questo grande Famoso campo I rom Sono costretti A indossare La zeta di zingaro Nonché Un triangolo Marrone E nero Che significa A sociali Vengono sterilizzati Tutti E vengono Sottoposti A esperimenti Per esempio Eva Justin Collaboratrice Di Ritter Decide che vuole Trovare il gene Del nomadismo Perché secondo lei Questi rom Sono geneticamente Nomadi E quindi che fa? Prende 148 Bambini rom Li usa come cavie Per cercare Questo presunto Gene Dopodichè Finito i suoi Esperimenti Inutili Falliti Butta questi 148 bambini Nelle camere In questo clima Alcuni rom Riescono A scappare Alcuni Per esempio Non essendo integrati Essendo ancora Clandestini Perché appunto Non Cioè vivevano Comunque marginati In clandestinità Nascosti Non vengono Trovati subito Mentre altri Riescono proprio A sgusciare via Dai campi speciali Approfittando Del buio Durante la notte Tutte queste persone Rom Fuggono E si vanno A nascondere Tra le montagne Alcuni di loro Poi si uniranno Alla resistenza Faranno parte Della resistenza Partigiana Fino a quando La guerra Finirà E finalmente Finalmente Niente Perché alla gente Rom Non vengono Restituite Le case I beni La popolazione Rom Non verrà mai Risarcita Del danno subito Non gli verrà mai Riconosciuto Lo sternio subito Che loro chiamano Il poracmos Da memoria Di quello che hanno Subito ad oggi E messa comunque In secondo piano E per di più Ragazzi Dopo la rivoluzione Industriale I lavori artigianali Che se vi ricordate Erano quelli che Cioè in cui loro Diciamo erano Specializzati Tramontano Perché nascono Tante fabbriche E niente Cioè è finita Manco possono fare Più i falegnami Perché non si usa più Il falegname A molti rom Quindi non resta altro Che chiedere L'elemosina E fingere Di leggere I tarocchi Nei quali loro Non credono Ma in qualche modo Devono mangiare Quindi offrono Questo servizio Quindi ragazzi La situazione È ancora molto difficile E poi per un po' Va di moda Il circo Che si sposta Di città in città Tant'è vero Che Moir Orfei Era di etnia rom Ma poi pure Il circo tramonta Soprattutto quello Con gli animali Cioè non ci va più Nessuno Non ve lo consiglio Ebbene ragazzi Ancora oggi Esistono purtroppo I cosiddetti Campi rom Che questa giornalista Chiama gentilmente Campi nomadi E questi campi Altro non sono Che un retaggio Dei campi speciali Si tratta di Si tratta di agglomerati Di agglomerati di roulotte Capanne Baracche Con impianti elettrici Non a norma A volte direttamente Senza elettricità Spesso con problemi Alle fognature In cui vivono Centinaia di famiglie Rom Tutte insieme Non ci crederete mai Ma i comuni Buttano milioni Nel mantenimento Di questi campi In cui la gente Rom Preferirebbe Di gran lunga Non vivere Per ovvi motivi Perché le condizioni Sono veramente Disumane Ora questi soldi Dovrebbero essere Investiti Nella scolarizzazione Delle persone Rom Perché poi Molti dicono Eh ma Se ne andassero a lavorare Se non vogliono Vivere nei campi Rom E si pagassero L'affitto Con i soldi Che guadagnano Lavorando onestamente Come chiunque altro Alle risorse umane Subito Cioè il problema Qual è Che oggi Se non hai una laurea Non ti pigliano Manco per fare Il postino E' difficile Trovare lavoro Per una persona Altamente istruita E comunque Pure se lo trova Molte volte Lo stipendio Non le permette Di campare Una casa Cioè Secondo voi Quante possibilità Ha una persona Analfabeta O semi-analfabeta Con un livello Di istruzione Basso Di trovare un lavoro Mettere soldi Da parte E uscirsene Dai campi Onestamente Questi soldi Potrebbero essere Spesi per dei corsi Di formazione Per affiancare Alle persone Rom Dei tutor Che li aiutino A integrarsi E invece Come li spendiamo Per sorvegliare I campi Cioè tra il 2021 E il 2022 Il comune di Roma Ha stanziato 5 milioni Di euro Solo per il Fattugliamento Della polizia Il 36% È stato destinato Alla gestione Dei campi Quindi pattugliamento Raccolta di rifiuti Manutenzione Utenze E così via Il 13,2% Alla scolarizzazione Dei minorenni Solo dei minorenni Tra l'altro Quindi Cioè Un cazzo È solo lo 0,4% All'inclusione sociale Ora Cioè Servono i disegnini A lamentarmi di questa gestione economica Ci tengo a specificarlo Non sono io È la stessa popolazione Rom O comunque Gli spinelli Che scrivono questi libri Santino spinelli Ragazzi Dice che l'integrazione È come l'amore Si fa in due E qui mi sa che Insomma È più una pippa In tutto ciò ragazzi Cosa succede Quando tante persone Vivono in povertà Che alcune di queste persone Cedono Alla criminalità Cadono Nella trappola Della criminalità E cercano Di smettere Di essere poveri Rubando Per esempio Ma non è un'esclusiva Dei rom Questo succede anche Nelle altre etnie Anche tra Tra gli italiani Tra Tra i siciliani Cioè abbiamo proprio Una zona di Palermo Che è È È Ghettizzata Attenzione ragazzi Questo non è giustificare La criminalità Non la sto giustificando Questo significa Analizzare le cause Di un problema Capire come nasce Per poterlo abortire Diciamo Per poterlo sradicare Rubare Occupare le case Non sono pratiche Che fanno parte Della cultura rom Non è che i rom Rubano Per tradizione Come testimoniano Professori rom Operai di fabbrica rom Parrucchieri rom Gente anche Di una certa Importanza Sociale rom Non si sente molto Parlare di rom Benestanti Perché ragazzi Perché Questo è interessante Proprio a causa Della stigmatizzazione Di questa cultura Tra i rom Esiste il fenomeno Della negazione Culturale Ovvero Chi è rom Fa finta di non Esserlo Non te lo dice Tipo Kanye West Che non ti dice Di essere nero Però ci sono Per esempio L'attore Charlie Chaplin Era rom Nato in un carrozzone Ragazzi Charlie Chaplin Elvis Presley Di famiglia rom Il suo cognome Originario Era Pressler Ibraimovic Ragazzi Il calciatore E figlio Di un padre rom Ronnie Wood Dei Rolling Stones Rom Lo stesso Santino Spinelli Musicista Autore di libri Importanti come questo Con due lauree All'università Di Bologna E di cultura E di etnia Rom Ma non tutti siamo eccellenze E non solo le eccellenze Meritano di vivere con dignità Altrimenti questa casa Sarebbe un porcile Chiusa quindi questa parentesi Ragazzi Torniamo alle borseggiatrici in tv Cosa vanno a fare Le borseggiatrici in tv Parliamone Signore e signore Abbiamo da una parte Mary Lei si definisce Una ladra Per professione Senza girarci intorno E abbiamo dall'altra parte Laura La protagonista del tiktok È andato virale È il nostro lavoro Dobbiamo rubare È il nostro lavoro Sì È il nostro lavoro Ora Queste donne sostengono Di non rubare per nessuno Cioè a un certo punto Vladimir Luxuria Chiede loro Ma c'è qualcuno Che vi manda C'è qualche uomo Al quale A fine giornata Portate i soldi Che rubate Un marito Un padre Ma Mary Ragazzi le risponde Guarda Mio padre sta in Bosnia Io non ho un marito Non rendo conto E ragione a nessuno È una mia scelta Rubare Non voglio essere Comandata da nessuno Io rubo per me Per nessun altro Anzi ti dirò di più Non sopporterei manco L'idea di stare Alle dipendenze Di un uomo E così rispondono anche Tutte le altre borseggiatrici Che vengono intervistate Smentendo La 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 teoria Che poi non è tanto Una teoria Insomma Visto che c'erano state Delle vere e proprie indagini Sull'associazione A delinquere Dicono tutte Di rubare per scelta E di non essere Costrette Da nessun altro Tanto più Da nessun uomo Tuttavia ragazzi Dicono anche Che i soldi che rubano Servono loro Solo per sopravvivere Portano a casa I soldi giusti giusti Per mangiare Tant'è vero Che una di loro Dice ma scusate Se borseggiare Facessi arricchire State tranquilli Che a quest'ora Non vivevo in un camper Con i miei due figli E non me ne stavo A vagabondare Per l'Italia Cioè Mi sarei quantomeno Presa una casa in affitto Magari non a Milano Visto che a Milano Per pagare un affitto Devi derubare le banche Altro che La gente in metropolitana Però Il concetto è chiaro E purtroppo Tante borseggiatrici Di fronte alle telecamere Lamentano un vero disagio Cioè dicono Io vorrei lavorare Magari Potessi lavorare Ma non mi piglia nessuno Se io vado in un bar Dico posso fare La cameriera Ma che ne lascia Tante borseggia Caggia i documenti No Allora vai via Perché non hai Nessun diritto Di fare un lavoro Non è che noi siamo Della gente miliardaria Che noi andiamo a rubare No Noi dobbiamo Per vivere Basta di vivere Po se io ero rica Mi compravo una casa Mi compravo qualcosa Non vivevo Con i miei due figli In un camper A girare Su tutta Italia Tra l'altro alla fine Questa tizia svuota la borsa Perché vuole dimostrare Che Siano tutte disarmate Quindi le loro rapine Quanto meno Non sono rapine A mano armata Cosa che credo Costituirebbe Un aggravante E quando svuota la borsa Possiamo ammirare Cosa c'è nella sua borsa Tipo quei Quei vecchi video Che giravano su youtube Nel 2012 Cosa c'è nella mia borsa Allora abbiamo Sienno 10 euro Che saranno Quelli che ha racimolato Durante la giornata lavorativa Una cinta firmata E un test di gravidanza positivo E anche per quest'anno Si va in carcere Tra due anni Comunque in tutto ciò Mary secondo me Non lo ha capito Che rubare il reato Perché a un certo punto Si comincia a lamentare E dice La situazione è diventata Insostenibile Noi ladri Veniamo perseguitate Dappertutto Ci filmano Non solo mentre rubiamo Ma pure mentre siamo al bar A farci fatti nostri Capito Non mi fanno manco Entrare al bar A prendere un caffè Che subito Le persone arrivano E mi filmano Con i cellulari Quelle che ancora Ne hanno uno Cioè capite il disagio Ragazzi Di essere disturbati Sul luogo di lavoro Una pressione mediatica Subiscono queste borseggiatrici Che manco Britney Spears Negli anni 2000 Dovrebbero valutare Lo smart working E a proposito Di smart working Questa maglietta È di pampling Se volete questa O altre magliette Di pampling Dovete andare Su pampling Vendono anche Gli zainetti Da indossare Comodamente davanti Al momento Dell'acquisto Non dimenticate Di inserire Il codice Babilonia Perché inserendo Il codice Babilonia Potrete scegliere Un paio Di calzini Come questi O come tanti altri Che trovate sul sito E metterli Nel carrello Gratis Torniamo a noi Comunque alla fine Laura La borseggiatrice Più famosa Di tiktok Si alza in piedi Prende il microfono E chiede scusa Pubblicamente Vi faccio sentire Le sue scuse Ragazzi Ho 18 anni E mi scuso Molto In quel video Ero molto nervosa Perché Mi hanno buttato Le cose addosso E Hanno spaccato La testa Di mia cugina Con la bomboletta I video I video Che fanno Che pubblicano Questo video Non hanno messo tutto Perché Anche loro Che ci hanno Credito Il servizio Sui rom Si conclude Con Giuseppe Cruciani Che si alza E va a baciare La mano di Laura La borseggiatrice Augurandole Di partorire E poi Cambiare il lavoro Dico Va bene Che i rom Sono stati Grandi circensi Ma mettersi A fare il circo Proprio adesso È di cattivo gusto Possiamo parlare Di appropriazione Culturale Perché dico Che è di cattivo gusto Ragazzi Perché Cioè La considerazione Che mi viene da fare È C'è tanta gente Rom Non rom Che sta con le pezze Sul sedere Ma non ruba Lo stesso Cioè Se alla borseggiatrice Baci la mano Giuseppe Cruciani A chi vive Lavando i vetri Ai semafori O chiedendole Lemosina Cosa gli dai Un limone Comunque ragazzi In conclusione Abbiamo disagio In questa storia Ovunque guardi Vedi Il disagio Proprio Piantagioni Di disagio Da una parte C'è il disagio Delle borseggiatrici Persone abbandonate A se stesse Dalla società Dall'altra parte C'è il disagio Dei cittadini Abbandonati Dalle istituzioni E la cosa Mi spaventa Perché purtroppo La storia insegna Che quando c'è Un voto di potere Quando i cittadini Si sentono abbandonati Dalle istituzioni Va a finire Che votano Col culo E nel vuoto Si insinuano I mostri Cioè nel vuoto Si infilano Quelle personalità Forti Che sfruttano Che sfruttano La paura Sfruttano Il pericolo Percepito E dicono Al popolo Volete la sicurezza Datemi tutta La vostra libertà E io in cambio Vi darò la sicurezza E il popolo Magari accetta Perché non ce la si fa Più a vivere liberi In un mondo In cui libertà Significa rischiare Di essere derubati Ogni giorno Rischiare di essere Picchiati da cinque Saurite Sulla metropolitana Rischiare di essere Scambiati per dei criminali Ed essere messi All'agonia pubblica Come è successo A Monni Quando la troppa libertà Inizia a fare schifo A tutti i ragazzi Le cose si mettono male Poi vedrete Che a quel punto Arriverà quel politico Che dirà Votatemi E renderemo le metropolitane Il luogo più sicuro Al mondo Armi libere per tutti Perché difendervi Dalle ladre Deve essere un vostro diritto E se lo fate È autodifesa Non sarà considerato Un reato E potrete prendervi I loro beni E queste borseggiatrici Tornino a borseggiare A casa loro E visto che sono tutte Incinte Se le loro nasciture Saranno femmine Potranno portarle Con loro Perché noi Pensiamo ai diritti Di tutti Pensate se qualcuno Ritaglia solo questa clip In cui dico queste cose La decontestualizza E la divulga Sono rovinata Va a finire Che qualcuno mi vota Va bene ragazzi Detto ciò Voglio concludere Con qualche consiglio Per non farvi borseggiare Mettete lo zaino Davanti a voi Fate finta Che sia vostro figlio Vogliategli bene Abbracciatelo forte Conservate il portafogli In un luogo difficile Da trovare Ottima idea Non tiratelo fuori Nei luoghi pubblici Non distraetevi Con il cellulare Evitate di parlare Al telefono O di messaggiare Mentre viaggate In metropolitana State allerta E se vedete Una donna incinta Sul metro Evitate di urlarle In faccia Ladra Cioè potrebbe Non essere una Borseggiatrice Potrebbe essere Solo incinta A questo punto Passo la parola A voi Cosa ne pensate Secondo voi Riprendere i volti Delle borseggiatrici È una violenza Oppure in questo caso È giustificabile Perché è una specie Di autodifesa Fatemelo sapere Nei commenti Se inoltre vi è capitato Di essere derubati Di essere borseggiati Raccontate la vostra Esperienza Ragazzi Se poi siete stati voi A borseggiare In passato Raccontatelo pure Perché tanto Cioè non vi arrestano Al massimo Vi invitano In tv Ragazzi a questo punto Scendo giù A leggervi A contare Quante borse Avete piazzato Nei commenti Vediamo qual è il livello Di indignazione Che abbiamo raggiunto A questo giro Nel frattempo Io vi ringrazio Per la compagnia Ragazzi Vi ricordo Che se volete Sostenere il canale Potete farlo Offrendomi un caffè virtuale Tramite il link Che vi lascio giù Nell'info box E detto ciò Vi mando un bacio Vi voglio bene E a voi La linea